Ciao a tutti ragazzi, sono Stefano Castiello e benvenuti anche oggi in un nuovo video. Questo è un video davvero molto importante perché in questo momento vediamo verde ovunque per la maggior parte delle criptovalute che addirittura sono anche in doppia cifra. Abbiamo visto un recupero davvero potente da parte di Bitcoin che mette nelle ultime 24 ore un più 10% lo stesso anche Ethereum. Quindi che è successo? USDC ha quasi recuperato, fortunatamente ragazzi direi, il PEG con il dollaro, fortunatamente ancora, perché io avevo tanti fondi di USDC come tante persone e dopo quello che è successo con USDC ero in panico si può dire, però fortunatamente dopo le dichiarazioni di Circle siamo sicuri che possono recuperare questi fondi e quindi il PEG non è per niente un problema per loro e le persone fortunatamente hanno riacquistato fiducia e siamo ritornati quasi su un dollaro per USDC. Detto questo ragazzi voglio anche aggiornarvi per quanto riguarda il meeting della Fed, il meeting d'emergenza della Fed che si terrà oggi. Voglio aggiornarvi anche per quanto riguarda la Shibarium perché è stata lanciata la beta della Shibarium perché finalmente è stata lanciata la beta della Shibarium dopo tantissimi mesi ce l'abbiamo fatta, possiamo dire. Quindi questa è una notizia molto importante per il progetto che adesso comunque non è che mette percentuali assurde perché siamo in bear market, però per il lungo termine come al solito potrebbe darci qualche soddisfazione. Detto questo ragazzi adesso iniziamo subito, però è importantissimo un mi piace e basta un clic che il gioco è fatto e se non siete iscritti iscrivetevi assolutamente al canale per non perdervi nessun aggiornamento del mondo cripto. Cercherò di pubblicare un video al giorno però dobbiamo distruggere davvero il tasto di mi piace e iscrivetevi così sono più motivato a farlo. Detto questo ragazzi adesso iniziamo subito, come dicevo la maggior parte delle cripto dopo il crollo avvenuto diciamo in questi ultimi due giorni durante il weekend per quanto riguarda la Silicon Valley Bank che comunque è stata chiusa eccetera abbiamo recuperato con un V-Shape Recovery sulla maggior parte delle criptovalute che sia Ethereum qui è davvero molto molto forte questo recovery, l'abbiamo visto anche con Bitcoin quindi che è successo nello specifico? In poche parole Silicon Valley Bank è falita come banca però sono arrivate altre banche che acquisteranno direttamente Silicon Valley Bank e tutti i depositi delle persone che sono in questa banca sono al sicuro soprattutto anche i depositi di Circle per quanto riguarda le riserve di USDC quindi questa è la notizia positiva in poche parole che ha fatto scaturire questo pump, questo più 10% da parte del Bitcoin e diciamo ha recuperato tutto il dump che abbiamo visto in questi giorni quindi questa notizia è molto positiva e siamo tornati sul livello molto importante quindi attenzione adesso che se continuiamo in questo modo e se la Fed diciamo non continua con i tassi di interesse perché c'è anche la possibilità che la Fed dopo quello che è successo con questa banca non continui ad alzare i tassi di interesse in maniera così aggressiva perché anche questo ha scaturito questo fallimento e potrebbero esserci anche altre banche che sono a problemi quindi questo potrebbe essere molto positivo abbiamo dati importanti merdi macroeconomici abbiamo poi il prossimo FOMC il 22 marzo e se la Fed non continuerà con i tassi di interesse in questo modo se adotterà una politica monetaria meno aggressiva potremo vedere gli asset di Scon respirare detto questo ragazzi anche in UK fortunatamente diciamo stanno trovando un modo per risolvere questo problema ma soprattutto HSBC che è un'importante banca inglese è arrivata in aiuto per Silicon Valley Bank la filiale presente negli UK per salvare ovviamente un po' il destino di questa banca e quindi il mercato, i mercati in generale si sono ripresi anche nel mercato azionario ho preso questo articolo da Coin Finance sono ragazzi italiani però trovate articoli in inglese e potreste tradurli con Google Traduttore detto questo ragazzi adesso voglio passare un secondo anche alla Shibarium di Shiba Inu perché vi ho detto che questo lancio della beta di Shiba Inu potrebbe essere molto interessante per il progetto attenzione per ora è solo la beta è stato creato diciamo il progetto in generale hanno pubblicato il sito però per ora ad esempio se volessimo depositare per ricevere interessi non si può fare perché non vi consiglio neanche di collegare il vostro wallet in questo caso Metamask perché se no potreste perdere fondi in poche parole possiamo ricevere interessi passivi utilizzando la Shibarium per chi non lo sapesse la Shibarium è un layer 2 che permetterà a Shiba Inu al token di essere più facilmente diciamo scambiabile si pagheranno anche molte meno fees rispetto all'Ethereum alla blockchain di Ethereum quindi è una notizia importante per tutti coloro che aspettavano la Shibarium questa è la beta ci saranno poi dei miglioramenti e verrà effettivamente lanciata del tutto a breve quindi notizia super super positiva ragazzi compresi anche le altre notizie per quanto riguarda la Federal Reserve che ha creato anche un fondo diciamo per le banche che hanno problemi di liquidità soprattutto ancora ragazzi vediamo oggi che c'è questo meeting in emergenza quindi la speranza che finiscono di diciamo alzare i tassi di interesse in maniera aggressiva per tutto il 2023 quindi potrebbe esserci così un pivot della Fed quindi assisteremo forse a un pump dei mercati nei prossimi mesi un pump vero Bitcoin ha messo un 10% così in niente potrebbe succedere di nuovo potrebbe mettere anche un 20, 30, 40% e sarebbe molto positivo anche per quanto riguarda le altcoins per questo vi aggiorno sempre su questo canale quindi iscrivetevi ai ragazzi se volete fare trading, copy trading vi consiglio assolutamente BitGet e BingX perché li sto provando ultimamente i link sono qui in basso in descrizione con BitGet avete la possibilità di ricevere il 5% di sconto sulle fise per sempre soprattutto anche poi un bonus di fino a 5.000 dollari se depositate a fare trading su BitGet ovviamente invece su BingX c'è una prova molto interessante per adesso perché permette di ricevere 100 USDT bonus da utilizzare per fare trading poi i profitti si possono prelevare se fate 3.000 USDT di volume di trading basta aprire anche un trade con 30 USDT in leva 100 lo chiudete e ricevete il bonus è un modo semplice per farlo sia per chi è iscritto già col mio link e anche per i nuovi iscritti ripeto i link sono qui in basso in descrizione diamo un'ultima occhiata al Bitcoin Fear and Greed Index da ieri al numero 33 siamo ripassati subito al numero 49 ragazzi niente proprio perché tante persone hanno capito che ovviamente la SVB questa banca diciamo non causerà altri problemi ad altre banche negli USA e quindi potremmo assistere anche poi a una politica monetaria meno aggressiva come ho detto prima e per questo il sentiment è più positivo vediamo nei prossimi giorni che succede anche su quello con USDC ripeto ci sono notizia positiva USDC ha recuperato il PEG finalmente quindi dai ragazzi speriamo bene come al solito vi aggiorno sempre detto questo grazie mille a tutti per la visione di questo video se vi è piaciuto un mi piace un'iscrizione basta un click noi ci vediamo domani con la prossima avventura ciao a tutti ragazzi a presto